Il ginocchio va bene, un po' di dolore mi rimarrà per un po' di tempo Però sono tranquillo, sono contento di riunirmi insieme al gruppo Quanto è stata dura seguire i compagni da fuori? È stata molto dura, soprattutto vedere le partite in casa, all'arena Ma quello penso sia per tutti Però stare fermo un mese e mezzo non è mai piacevole Un tempo abbastanza lungo Poi l'infortunio è un po' rognoso Quindi taglia questa parte Anche i compagni sono contenti di rivederti I compagni sono soprattutto felici, soprattutto Giuseppe Giovinco Che è un piacere Chiediamo appunto, Beppe, sei contento del rientro di Paolo? Sono molto contento, è un bravo ragazzo, se lo merita È un vantaggio in più Scherzi a parte, c'è un buon clima e soprattutto c'è voglia di battere la serenità Sì, stiamo comunque facendo bene Quindi ci prepariamo al meglio per cercare di battere la serenità na domenica Allora, papà